Dove sono più che altro adesso? Mi sono in posizione perché sono circondato da Kimere Eh va bene, arrivo Finalmente Uno è in pericolo, seriamente Mi dica, dov'è? Dove sono io? Ah, no Dove sono? Ah, ok, so dove sono Ok Sto facendo a botte qualcuno qua Ah Eccola lì Nice contro Come ci arrivo da te? Dimmi Da qua Senti la musica Aha Ah, lì c'è roba con ascia Ok Da qua Adesso posso uscire Adesso che ti serve mi fai uscire, eh Maledetto Bestia Eh, vabbè Colossale Come c'è che ti chiami Permesso Un attimo Arrivo subito Ok, capisco tutto Però c'è C'è da considerare anche la bonifica della zona, eh Molto importante Un attimo solo, eh No, è chiuso Dai, ma che posto del cacchio Dai, dai Arrivo Sì, scusa C'hai ragione Ti trovo un modo per I'm coming, baby Here, boy Allora, vediamo se riusciamo tipo a incatenarne uno Ah, ecco Tra l'altro ho scoperto anche Il robo del Dei paletti Avete presente quei paletti che ogni tanto vedevamo in giro? Tipo nel mondo Nel mondo loro, no? C'erano pure quei paletti Quei specie di portali Che non riuscivo a capire come Come passare E praticamente si possono usare in un determinato modo Adesso appena ci capita l'occasione Vi faccio vedere Praticamente li usiamo come sponde Piano piano, 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 piano C'era un tasto con A Sì, è vero Basta Sta roba dei punti Raga Non sa ne non ha senso Sto facendo Casino per niente Ci facevano dopo aver frenato quella chimera Prima che quello che si saltasse fuori Erano sulle tracce del loro leader Il nostro dinamitardo folle Dovrebbe essere ancora nei dintorni Dobbiamo farlo fuori Addirittura dobbiamo farlo fuori Ma guarda che di solito le arrestano le persone No Dobbiamo farlo fuori Ok Comandi tu in questo Sì, praticamente Allora, il tizio con l'ascia Può causare i... Come si chiamano? Sì, prego Il tizio con l'ascia può spaccare quelle barriere Il tizio spada Può decontaminare le persone Il tizio con l'arco Vabbè, spari lontano Il bestia Il colosso Tira sulla roba E il bestia in teoria annusa Non lo so C'è una spazzatura lì E muoviti Quasi non vanno come vorrei Ok Tutto sembra ancora tranquillo a queste parti Adesso Adesso Lei c'aveva il bestiale Adesso che ci penso Aspetta, aspetta, aspetta Perché l'altra volta ci ha fatto la stessa cosa con Jin E i suoi ricordi Non vedo l'ora di sbarazzarsi tutte le chimere Vedremo il mondo di una tranquilla Già me lì Non sanno com'era ai vecchi tempi Loro sono nati in tutto questo casino Avrei voluto tenere fuori tutto questo Parare della loro vita pacifica Per questo che sono ancora in servizio Questo era un mondo migliore Con le mie stesse mani Se necessario Le avrebbe detto che diventare padre Ti avrebbero ammollito così Certo che anche tu in un mondo pacifico Ci saranno anche Bisogni di babysitter o robesini No? Devo cercarne una Ok Mo' Iwa! Perché so che c'è il bestia qua Adesso non ricordo Non avrebbe senso il bestia qua Però Mentre è più importante la pace per lui Ok Le persone che ti aiuteranno sempre Quando pensi che tutto sia troppo Puoi sempre venire a parlare con me Ok? Va bene Come torniamo indietro? Stiamo cercando il tizio Stiamo cercando il bombarolo Torniamo indietro Ma che senso ha? Ok Ma che cacchio Deimos Sì praticamente quando dice Procedura sterminio È perché dobbiamo ucciderlo Sennò ci dice Procedura cattura Ah è lui il dinamitardo È una chimera dinamitarda Ok Chiaro Faccio accogliere un po' di spazzatura Ok Pensavo che fosse un tizio Tipo un terrorista Di un qualcosa Quanto è bella la canzone comunque Le canzoni sono stupende Devo dire Cioè ci stanno un sacco Se cado lì Se cado lì Mi sa che cado È là In realtà vorrei provare a fare una foto A uno di queste chimiere Perché mi sa che Mi sa che le foto servono Però vabbè In casa la faccio Tempo perso Ma raga ma li shottiamo Forse sono un po' overlivellato adesso Vero Adesso ammetto che forse sono un po' overlivellato Lì va in mezzo al fuoco Tranquillo Non si fa niente Fa farlo anch'io Sentila 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 come pompa È proprio adatta È adatta al gioco È adatta alla situazione Poi bella Epic Una testa volante No Quello tra l'altro mi sembra un nemico di un qualche gioco Che ho già visto Mi sembrano Ah no ecco Mi sembrano A parte dei tichi di Donkey Kong Tipo prendi Donkey Kong Country Resort E tichi Il boss finale È lui Sembra lui Ok Ok Eh vedi c'è sempre roba da bestia da fare qua Cioè è pieno di roba da bestia da fare E non ce l'abbiamo Infatti mi fa strano Però vabbè Tra l'altro Ah la materia cremisi mi serve per comprare la roba Ah ok Lì siamo scelta Lì siamo scelta Lì siamo scesi vero Piano piano Ciao Deimos Ecco vedete là in alto raga In alto in alto C'è Deimos C'è Deimos che è il nome E c'è il livello Che è C9 Calcolate che un nostro coso Attualmente è o C4 o C5 Io userei tipo la pistola Con questa Vado un po' in fiamme Mi sembra molto Corretta come situazione Comunque Eh anche te scusa Signor Spada Meglio l'arco forse Ah si spegne No quando si spegne Lo massacro Se non si spegne Lo massacro di botte Ne frega Dalla spada Dalla pistola E tutto Vai vai Mena 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 Una volta che si spegne No ma sto sbagliando tasto No che scemo Stavo continuando a sbagliare tasto Porca vacca Al posto che colpirono Stavo cambiando Il legion Ok Ma pensa te che deficiente Oh Adesso Adesso le prende La differenza c'è Che scemo Cacchio Che è morto Buoni Buoni No no Che alta F4 Io premevo Y Per colpire Al posto che è R2 Premevo Y E non te lo colpisce Perché con Y Cambi il Il Se vedevate in basso Dietro di me Vabbè Per fortunare dietro di me Magari non l'avete visto Cambiava Possente Spada Arco Possente Spada Arco Possente Spada Arco C'era il legion Che impazzino Ciao Sei buono Stai Cagnolino Cagnolino Cuccia Vuoi che non arrivi Il bestia qua Dai raga Ma ci sono tre cani Ma guarda un po' Oh wow Che sorpresa Ma perché ce lo danno adesso Non ha senso Ok Tutto tranquillo Io ho visto Uno zinò prestigio Raga Quanti capitoli ci sono Perché Se al quinto Ci han già dato Ce ne manca uno Praticamente Quello con l'ascia Cioè questo bestia E quello con l'ascia Però se ci stanno Stanno andando A questa velocità Vuol dire che Al sesto Barra settimo capitolo Se non mettono Qualcos'altro È finito Ok Procedura Cattura Esatto Perché adesso Devono catturarlo lui Aspetta un attimo Ok Sei ancora viva Ovviamente sono ancora viva Che domani Allora Allora Aspetta un attimo Calmati Prima Ammazziamo I baby Questi qua Mi stanno già Sulle palle Prima Veniamo loro Poi uno contro uno E ci becchiamo Che ne dici Guarda qua Questi Due Tre Mazzate E li veniamo E li uccidiamo No Deve andare addosso A lui No A lui Al piccolo È morto Va bene Va bene Era quello che volevamo Oh Piano 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 Si calmi Oltretutto Abbiamo delle Abbiamo delle Oh madonna Delle Delle abilità Ho installato Delle abilità Che praticamente Sono Per questo qua Tornado di lame Credo si chiami Aspetta Adesso che ci penso Come cacca faccio Usarle Perché In teoria Oh In teoria Quando lo combatto Non fa Se uso Una sua abilità Ah Scappa È infame Piano Dove va Oh Oh Guarda che maledetto No aspetta 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 Ok Guarda come le sente Le botte Ok Ottima mira Completata Vabbè Ho fatto qualcosa Guarda quanti Dane li faccio Easy Si si Fai 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 Tu hai ululato E te Vai tranquillo Bella mira Sto buono che me l'hanno dato loro Lo prendevo al volo Quanto era bello Eh purtroppo si scarica Non è colpa mia Si scarica il Cosa Ma perché lo manco così Raga Dai C'è un po' Un minimo di mira Dicono Neanche dire Oh Vieni 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 che ce n'è ancora per te Urca miseria Aspetta qua si può fare Così Come here boy Vai Vai gli addosso Tacca Posso capire come fai a fare La tua abilità No Eh perché se premo y Ah ok Devo tenere premuto Ho capito Vedete tipo adesso Mi dovrebbe fare Tempesta No Cos'è Devo Devo tenere premuto Il tasto di attacco Ok capito Va bene Ce lo teneremo da conto Per la prossima volta Link lufo Devo aver livellato In modalità sacere Eh infatti Era quello Più che altro Era quanti danni li faccio Forse troppi Forse troppi Adesso vediamo Magari Se Se vedo che veramente Sono troppo pochi Possiamo Possiamo davvero Passare alla più difficile Guardati il fenomeno Adesso capisco perché Piacere il comandante Fai in modo Di non finire in guai Ok Max non me lo perderebbe mai Devo compilare Il mio rapporto Ciao Ti abbandono lì Ultima giro E metto nella corte generale Tu devi completare la missione Va bene Legge un bestia Ma io non l'ho capito Aspetta Ma li sto fregando I legion agli altri Premi L Cavalca il legion bestia Veramente più velocemente Di quando usi lo scatto Oh bello Ok quello del vento Sì il vento è infame Il vento lo fanno alcuni Alcuni chimere Quando cavalchi le giun bestia Adesso scriverà automaticamente Alcuni attacchi Ma che cacca Che dici Ma questa è la modalità Over easy Del gioco Ma non salta Sto colpo Bravo Ma è fallato Comunque raga Piano 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 No Mi sta giù sulle palle Sto cosa Fai piano Fai Polca Ma carri così Non sarà un cacchio Proprio un cane inutile O lì sotto Mi sa che si va Senti fammelo cambiare Per favore Non ne posso già più Mi sta antipatico Mi sta antipatico Porca vacca Che bestia di satan Inutile Guarda lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Si ammazza Si ammazza Non posso neanche guidarlo Comunque raga Non posso guidarlo Non posso metterlo Con R2 Ah si invece 3 ore ci mette Per andare Va bene Perché sto così male Ah perché C'ho La vita Ma guarda C'è C'è proprio un cane Proprio un cane Come odio i cani Odio anche lui Non sa che lì posso andare Vero? Aspetta un attimo E forse posso andare Non so dove sono Non mi chiedete dove sono finito Perché non lo so Non so se devo essere qua io Sicuramente ho saltato tipo metà gioco Non maltrattarlo No no Non l'ho maltrattato E' lui che maltratta me E' quello il problema Ah quello è per l'ascia Mi sa Vero? Vado a vedere E' per l'ascia Vedete si E dietro c'è tra l'altro Una cassa Quindi Ma che è ste botte qua? Piano Che sono ste botte? Piano raga Piano Piano Chi è? Ciao Sei un boss? No Eh ok Adesso vuoi che non mi dicano Guarda ci sono Il vento Oh wow Vado a uccidere quel robo Dov'è? Sei lì sopra sei? Che fai là sopra? Dov'è? Vieni giù Vieni Vieni giù Come io lo tiro Da lontanissimo anche Adesso siete Delle schifezzine Delle schifezzine Alla mia merced Buoni Buoni Voglio addosso a uno Per favore E' ancora difficile Comunque controllare Mandare il Mandare il legend Addosso a uno E teletrasportarsi Ancora non ho capito Come funziona Quanto ci mette Più che altro Il tempo di reazione Perché è strano Eh purtroppo il bestie Mi serve per questo Per quanto non voglio Utilizzarlo Mi serve Dai Bravo Ti odio Sei un cacchio Sei inutile Sei rotto Dov'è andato? Oh madonna Dov'è andato? Mi è caduto giù Perché devo avere Un animale così? Ma non potevo Non posso Posso avere il pubblico Di gatti? Mi è stato un gatto? Posso avere un gatto vero? Non quelli finti Oh 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 Ah infami Aspetta aspetta Oh c'ho Il territorio Guardalo Guardalo E' tutto per Per la bestia Cioè Crolla questo E si può usare solo Con la bestia Oh ciao 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 Grazie No vabbè Dove sono finito? Ah ciao Vedi tipo questo qua In teoria Dovrebbe farmi Gli attacchi volanti Quelli che poi In teoria Posso schivare Con la bestia Cioè Con la bestia Posso andare All'incontro Posso resistere Alle loro cose I nemici Con le cutscene Bellissime E li presentano E tutti fighi Così poi Due smartellate Droni misterioso Qualcuno mi sente o no? Serve una mano Drone Ah posso localizzare I suoni Ok Va bene Forse ho capito Forse no Vedo vedere questo Era lui Era? Se di no C'era un pezzo Nel terreno Mi pare Shit C'era un pezzo Con una Scafandola Una scatola Eccolo là Oh bravo Dai Un codice materiale Comune Vabbè Questo è un Isekai? Credo di no No Non credo Isekai E quando vieni In teoria Quando vieni portato In un altro mondo Magari ci resti Non ho mai letto Di un Di un Isekai O comunque di un manga Così dove fai avanti e indietro Allora aspetta La bestia mi serve Quindi qua la bestia Mentre lo muovo Guardalo Sì ma dai Ma già si muove Da schifo Ma vabbè Va bene